Eccoci qui, un saluto a tutti gli amici rossoneri come state, vi invito ovviamente a lasciare un bel like qui sotto, iscrivervi qui, attivate la campanella se siete campioni d'Italia e se vi va prendete la maglietta di Milanello su milanello.com senza www, con l'h, c'è anche la versione nera e mi raccomando taggatemi sui social quando vi arriva, devo dire che ha un'ottima vestibilità, un ottimo cotone e poi è rossonera e quindi questo è il valore aggiunto. Giornata intensa oggi nelle vie di Milano, andiamo subito ad approfondire anche il discorso mercato, tra un mese inizia il calcio mercato, il primo luglio e quindi andiamo a capire le evoluzioni con l'idea che Maldini, Massara e Moncada resteranno e stanno ancora continuando a lavorare per il futuro del Milan per costruire una squadra più forte. Gazzini si ha detto vogliamo competere a livello alto in Europa e Maldini per restare vuole un progetto appunto ambizioso, competitivo per il bene del Milan ed è anche il nostro obiettivo ovviamente, cercando di capire, di scoprire quali saranno le strategie vere, non soltanto a livello di creazioni, di comunicati di Redbird, di Gerry Cardinale, che come sapete a Milano e sta vivendo appunto le sue prime ore a Milano da di fatto proprietario della C.Milan, con una struttura finanziaria che appunto prevede 1,23 miliardi nelle casse di Elliot, che presta 600 milioni a Redbird con interesse del 15%, 300 milioni di JP Morgan, insomma una struttura finanziaria piuttosto articolata. Ne parliamo da tempo. Anche oggi il nome caldo da radiomercato è quello di Nicolo Zagnolo, giocatore di 22 anni, 23 a luglio, quindi dovesse arrivare a sarebbe un 23enne, alto 1,90, contratto in scadenza con la Roma fino al 2024. Qualche mese fa contatti avviati tra la Roma e il suo agente Vigorelli per rinnovo, poi a un certo punto salta tutto, sia Arena è tutto fermo e di fatto o il giocatore rinnova il suo contratto quest'estate o va via, ma al momento di scorsi di contratto, di rinnovo di contratto non ce ne sono, anzi risultano contatti con Maldini e Massara, con il suo agente appunto, che ha dato la piena disponibilità a vestire rosso-nero. Ovviamente per lui sarebbe un salto di qualità incredibile passare dalla Roma al Minan, campione d'Italia. Giocatore che ha fatto 28 presenze e 2 gol e 5 assist quest'anno in Serie A, non male. Ecco, andando un po' a scorrere, colpisce questo dato, 10 cartellini gialli, una doppia munizione e un'espulsione. Per uno che di fatto gioca dalla metà campo in su, gioca dalla tre quarti in su, il Milan ci pensa per l'esterno di destra, laddove deve alzare il livello della qualità e portare 4 gol e assist. Questi 10 gialli e un rosso fanno capire che lui è un po' troppo fumantino in campo, spesso per proteste, spesso per interventi, e quindi questo è un atteggiamento che per quanto mi riguarda stona un po', strido un po' rispetto al mondo Milan, con Paolo Maldini che ha sempre, di fatto quasi tutti i dirigenti del Milan, hanno sempre guardato prima l'uomo che il calciatore e l'uomo Zaniolo, con tutto rispetto, fa discutere per atteggiamenti sbagliati fuori dal campo, anche recentemente allontanato da Nazionale per qualche episodio un po' così. Sapete che io sono un po' freddo per questo aspetto e anche per il discorso legato agli infortuni, ne ha avuti di seri e mi dicono ad alti livelli che il rischio di ricadute sia concreto. Due gol in nove partite con la Nazionale, ha fatto bene in conference con 5 gol e 3 assist in 10 partite. Il Milan ci pensa seriamente, la Roma lo valuta 40 milioni rispetto ai 50-60 sparati all'inizio, la valutazione è di 40, il Milan studia la possibilità di inserire contropartite, è circolato nell'ultimo renome di Salemakers, l'offerta secondo la Gazzetta sarebbe Salemakers più 25, respinta dalla Roma, vediamo, l'anno scorso lui ha fatto 6 gol e 2 assist in Serie A, l'anno prima 4 gol e 3 assist, molto giovane, può giocare in più ruoli, Milan ci pensa come esterno di destra, potrebbe fare anche il trequartista, cosa che ha fatto, anche se poi si è più consacrato nel ruolo di esterno di destra, ha giocato 51 volte, 83 però da trequartista, pensavo sinceramente di meno. Al di là di questo, vediamo, è un italiano, cresciuto nel settore giovanile italiano, c'è nella Roma, quindi importante anche per la questione liste, servono 4, vivaio Milanello, 4 vivaio italiano, se piace Maldini ci fidiamo, io sono sempre un po' perplesso e vediamo poi se è il vero nome o può essere lo specchietto per la Lodole una falsa pista con sottotraccia appunto un nome diverso, io mi auguro questo, detto che se arriva Zagnolo diventerò il suo primo tifoso, credo un po' come tutti, però, 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 Salem Akers può finire sul mercato, lui ha fatto 36 presenze, un gol e tre assist quest'anno, non tanto diverso da Zagnolo in campionato, però il potenziale offensivo obiettivamente è diverso, giocatore di 22 anni, 23 e 27 luglio, quindi hanno davvero pochi giorni di differenza, scadenza 2026, rinnovato recentemente, 9 presenze, un gol con il Belgio, io se possibile me lo terrei, perché da quella quantità, quella duttilità, quell'equilibrio che è difficile trovare per un giocatore che gioca lì, io nel gioco delle coppie vedo un Salem Akers più equilibratore e un, magari, Zagnolo, piuttosto che altri giocatori più offensivi, detto che Messias, vediamo se viene riscattato, potrebbe essere riscattato e ceduto per fare plusvalenza, piace molto al Monza di Strooppa, Gagliani e Berlusconi, detto questo, Salem Akers, se arrivano offerte, è uno di quelli da cui si può monetizzare, ci sono anche alcuni stimatori in Spagna, al momento offerte vere e proprie non ce ne sono, però è chiaro che si andrà su un mercato creativo, una finanza creativa, bisogna cercare anche di cedere, Salem Akers, che io preferirei tenermi, comunque non è un titolare e potrebbe anche partire per quanto mi riguarda un po' più a malincuore. Su Zagnolo rimango sempre perplesso, è vero che ha 22 anni, lui ha potenziale incredibile, però il potenziale tu lo esprimi, lo esprimi se hai la testa giusta. Pensate a Balotelli, il potenziale che aveva è poi stato un calo continuo, lui mi sembra uno troppo nel suo mondo, ecco, quindi non lo so, rimango perplesso, concedetevelo. Enzo Fernandez, giocatore di 21 anni, vi suonato più volte, relazioni positive dell'area scouting, apprezzamento successivo anche di Maldini e Massaro, giocatore di 21 anni, centrocampista, alto 1,80, The River Plate, scadenza 2025, nella Libertadores, 6 presenze, 2 gol e 1 assist, giocatore che non ha ancora giocato nell'Argentina nazionale maggiore, ha 21 anni, il Milan c'è, ha presentato una offerta subordinata alla nuova proprietà di 15 milioni, c'è anche il Benfica, il River Plate, nell'ultime ore, nella serata di ieri, ha fatto sapere che non si tratta, non si tratta rispetto alla clausola che è di 18 milioni, io sapevo di 18 milioni di euro, loro scrivevano 20, forse, non so se è una cifra diversa, comunque 18 barra 20 milioni di euro, vediamo se il Milan ci arriva oppure no, se finisce come magari altri profili, come col Julian Alvarez che è finito altrove. Al Milan piace, ci sono relazioni più che positive, vediamo se effettivamente non si smuovono da questa clausola che dobbiamo capire se è 18 di 20, io sapevo 18, dall'Argentina dicono 20, quindi forse hanno qualche informazione in più, però ecco, è un nome che il Milan continua a seguire, magari allacciando un patto di ferro con il suo agente si potrebbe provare a forzare la mano con il River Plate, cosa che speriamo appunto si possa fare e che si possa appunto riuscire, giocatore completo, quantità, qualità, molto dinamico, può fare il trequartista, può giocare in un centrocampo a due, davvero speriamo si possa realizzare per il Milan, sarebbe un bel colpo molto giovane. Non attingiamo ultimamente da tanto tempo dal mercato argentino, credo che sia il momento anche di svoltare da questo punto di vista perché ci sono giocatori interessanti che tendenzialmente si adattano alla Serie A, all'Italia, al nostro campionato, al nostro paese, senza problemi anche per via di una cultura molto vicina alla nostra se vogliamo, a differenza magari di altri che arrivano da altre parti. Quindi ditemi cosa ne pensate ragazzi, la maglietta la trovate su milanello.com, iscrivetevi qui, attivate la campanella, se siete campioni d'Italia prendetevi cura del nostro tricolore. Un abbraccio, ciao ragazzi, iscrivetevi numerosissimi.